a mente fredda cosa le è piaciuto di più nella vittoria contro la provercelli ma mi è piaciuto il pensiero della squadra lo stato d'animo è quello che ragazzi avevano da dire lo scorso penso che alla fine il tema è quello cioè le partite sono difficili vanno prese con estrema attenzione vanno giocate con estrema attenzione determinazione e soprattutto uno alla volta nel processo di crescita collettiva della squadra anche i gol di Malomo e Fisinaler assumono un valore significativo dimostrano una sinergia funzionale tra i reparti e la forza del collettivo sì penso che per ogni squadra che ambisce a diventare vincente ha bisogno di determinate caratteristiche soprattutto nel modo in cui sta in campo nella propria cultura nella etica e nella disciplina e quindi questo dopo si si trasmette anche su quello che è identità di gioco di una squadra. C'è una domanda ricorrente si aspettava una solidità difensiva così importante? Sì sinceramente sì ma perché abbiamo delle qualità sia individuali che collettive per potersi esprimere a questi livelli non parlo solo dei difensori ma in senso collettivo ci sono dei valori e questo è fondamentale per avere un certo tipo di solidità ma penso che sia una questione anche di un insieme di cose noi siamo anche tra le prime squadre nella nella statistica per i passaggi per i tiri fatti quindi un insieme di cose che rendono una squadra solida anche dal punto di vista difensivo e correlata anche a quello che fai anche quando hai la palla secondo me. La Gianna Erminio che è avversario è sicuramente sarà una partita diversa rispetto a quello della Coppa Italia su tutti i punti di vista? Sì quello assolutamente sì è una squadra solida che prende pochi gol è una squadra esperta fisica ma allo stesso tempo ha anche dei lamenti elementi giovani frizzanti veloci quindi sicuramente ci aspetta una partita diversa nel punteggio sicuramente rispetto a quello che è stata in Coppa Italia anche perché anche la stessa partita in Coppa ha dato dei temi dove dove ci hanno messo in difficoltà quindi sarà sicuramente una partita complicata. Tra le domande c'è resta in sospeso ancora la partita con il Legnago in un contesto comunque in cui si guarda di gara in gara quindi per cui incide poco nella gestione della squadra? Mi interessa veramente poco non ci penso siamo concentrati sulla Gianna e quando ci sarà tempo ci concentreremo su altre partite.